Hello there! Oggi, come vedete, nuovo video su The Sims e come ogni serie che si rispetti dopo aver creato il mio personaggio, la protagonista della storia, oggi invece vi faccio vedere come ho costruito la sua casa, che poi parlo in terza persona di questo personaggio, che in realtà sarei io, perché mi avete consigliato di creare me stessa su The Sims. Tra l'altro, se non avete ancora visto quel video, ve lo lascio qui sotto in descrizione, perché quello è il primo episodio della serie. Mentre in questo, appunto, come vedete, sto costruendo, sto arredando e creando l'appartamento di Cleo, il mio appartamento, non so come dirlo. Vi ho chiesto in realtà se preferivate un appartamento o una casa e ho pensato che fosse più realistico partire da un appartamento e poi pian piano trasferirci in una casa più grande. Quindi, come vedete, cercherò comunque di fare una serie abbastanza realistica. Allo stesso tempo, però, come mi dite sempre, i trucchi utilizziamoli, altrimenti dovremmo vivere in una casa bruttissima. Quindi, come vedete, appunto, a proposito di trucchi, sto arredando la casa proprio come la voglio. Quindi l'appartamento non è grandissimo, però è arredato e decorato proprio come lo voglio. Tra l'altro, come vedete, sto utilizzando praticamente tutti i contenuti di The Sims, quindi nulla che ho scaricato da internet, praticamente quasi niente, solo due o tre quadri. E come vedete adesso ci troviamo nella zona che ho creato per il salotto e la cucina insieme e anche sala da pranzo, in realtà, tutto quanto. Sto scegliendo quindi il divano, sto scegliendo il mobiletto della tv e mi piace perché, come vedete lì, le finestre, diciamo, i muri sono anche in diagonale. Quindi mi piaceva creare qui lo spazio del salotto perché mi piace come se fosse quasi una zona veranda, non lo so, è molto luminosa. Ho messo anche quella pianta che mi piace molto perché è gigantesca per coprire tipo il contatore dell'elettricità, una roba del genere, che non si può togliere, è proprio realistico anche nel gioco di The Sims. E poi sto utilizzando queste sedie di vimini che mi piacciono tantissimo, sono con l'espansione, col pack del bucato e sono molto belle, sono molto realistiche. Ah, e poi come decorazione, come centrotavola, ho messo quelle zucche perché comunque siamo nella stagione dell'autunno e anche nel gioco utilizzerò l'espansione delle stagioni e inizieremo dall'autunno. Quindi ho iniziato un pochino a mettere qualcosa che ricorda l'autunno, ma secondo me sarà bello anche dedicare proprio un episodio alle varie stagioni. Quindi vabbè, ho messo intanto quelle zucche come centrotavolo. Come vedete sono indecisissima sui mobili da utilizzare, sui vari colori, però ho abbinato quel mobiletto giallo alla sedia gialla, così. Però in realtà anche nella vita reale mi piace il grigio, il bianco e il grigio abbinati al giallo. Comunque adesso sì, sto scegliendo un po' le piantine. A me piace sempre utilizzare comunque le piante e i fiori per decorare le case. E adesso cosa vado a fare? Ah sì, qua cambio l'arco perché era esageratamente grande, così sono riuscita ad aggiungere un altro mobiletto della cucina. Io utilizzo sempre questa cucina, sono innamorata di questa cucina, la utilizzo sempre. Ho messo anche il forno a microonde. Poi vedrete che aggiungerò molte cose per rendere realistiche anche le decorazioni, quindi appoggerò sui mobili varie cosine, oltre alle piante anche proprio vari oggettini. E mi piace fare questo appunto per rendere la casa vissuta. Ecco vedete sto mettendo le padelle. Ah qui ho trovato questa bacheca che di solito non utilizzo ma mi sono ricordata che esiste nel gioco. E quindi mi piaceva, vabbè, visto che l'appartamento non è molto grande bisogna utilizzare bene gli spazi. Ah e poi vedrete che qui in questa parte di ingresso della casa posizionerò un po' di vari mobili che voglio utilizzare nella casa e li appoggerò lì diciamo momentaneamente. Ah sì, qui mi sembrava il posto giusto anche per una bella poltrona. E adesso qua non sapevo bene che cosa fare, quindi ho iniziato a mettere un camino ma in realtà spoiler non rimarrà lì perché non sapevo bene come utilizzare ancora lo spazio. Sono passata al bagno, mi piace tantissimo come potete immaginare, come potete vedere mi piace un sacco questa carta da parati che è del gioco di The Sims. Non dovete scaricare nulla, è proprio nel gioco originale base e quindi l'ho utilizzata verde in bagno. Sempre i soliti mobiletti uguali alla cucina, adesso sto scegliendo il colore. E anche quella doccia mi piace tantissimo, è molto realistica, quella è con l'espansione delle stagioni, molto molto bella. Anche lo specchio che utilizzo mi piace un sacco, vabbè, l'espansione delle stagioni ve la consiglio perché ci sono tante cose belle oltre che nel gioco anche nell'arredamento. E poi ovviamente per rendere il tutto realistico metto anche la lavatrice e l'asciugatrice, quindi faremo anche il bucato, c'è proprio la possibilità nel gioco di fare il bucato, di cambiarsi i vestiti e poi lavarli. Vedete che adesso sto mettendo nell'ingresso tutte le cose? Ecco, dopo le sposterò, non vi preoccupate. Quindi questo più o meno è il bagno, adesso alla parete attacco il ferro da stiro e tutto il resto, c'è il ferro da stiro, l'asse da stiro. E appunto in generale sto un po' arricchendo con decorazioni tutto il bagno, lì ci sono i detersivi, un po' di prodotti per il bagno, il sapone. Ecco, qui potete vedere quello che vi dicevo prima, che mi sono messa un po' a aggiungere vari oggetti sul bancone del bagno così. Per renderlo realistico alla fine continuerò a dirlo, però a me piace molto, vedete ho messo anche i trucchi immaginando appunto il personaggio mio simile a me che si mette a truccarsi appunto. Quindi, ok, il bagno più o meno è finito, sì, ok, adesso passo velocemente alla camera da letto, ok, tappeto e fatto. La camera da letto anche lì non è stato semplicissimo, ma alla fine mi piace molto com'è venuta. Ah sì, qua sto iniziando a mettere una scrivania, ma dopo ci vado dopo in quell'area lì che voglio farci un piccolo ufficio, un piccolo studio. Qui ho messo subito questo, come si chiama, questo closet, questo armadio a parete, che necessita poi di due quadrati della griglia di The Sims per essere messo nel muro. Quindi è abbastanza ingombrante, però qui la camera da letto era abbastanza grossa, quindi ci poteva stare. E adesso sto scegliendo un letto, anche questo è dell'espansione stagioni, comodini. Quindi diciamo che la camera da letto l'ho fatta più sui toni neutri, come vedete, beige, bianco, nero. E mi piace un sacco questa postazione trucco, che utilizzo raramente, perché di solito preferisco usare gli spazi per altre cose, però secondo me qui ci stava, visto che la scrivania col computer la metto all'ingresso. Ancora la solita sedia di vimini. Ah, poi ci tenevo tantissimo a usare questo mobile, ma alla fine non lo utilizzo perché non so dove metterlo, tanto abbiamo già l'armadio, quindi non ci serve. E adesso sto iniziando un pochino a decorare, metto sul comodino una candelina, un po' di fiori, delle carte di auguri. Scelgo anche i quadri, anche i quadri sono tutti di The Sims, dopo ne metto due o tre che ho scaricato, ma sono veramente marginali, nel senso non sono fondamentali. Metto ovviamente anche una libreria, così possiamo comprare dei libri, leggere qualcosa, studiare. E niente, adesso pian piano sto un po' decorando. Ero un po' indecisa sui colori della camera, me li vedete cambiare spesso. Alla fine ho deciso le pareti di farle con questi mattoncini simili al bagno, perché sennò la carta da parati con le foglie poi dopo era un po' troppo. Cioè, non so se siete d'accordo, però secondo me sì. E adesso sto vedendo come posizionare un po' i mobili, ci tenevo a tenere quella cassettiera, ma alla fine no, non ci stava, non sapevo come metterla. Quindi alla fine ho cambiato in questo modo e ho messo quello specchio lungo, con le luci che mi piace davvero davvero tanto, vorrei averlo anche nella vita reale, è carinissimo. E non vedo l'ora di fare proprio nel gioco, di farmi il trucco, di far sì che la sim si faccia il trucco al tavolo della toilettatura, dei cani, sì, vabbè, della toiletta. Non so come si dice in realtà. Vabbè, la postazione trucco, chiamiamola così. E come vedete questi tre quadri con le foglie bianche e neri sono gli unici tre quadri che sono appunto della... che sono scaricati da internet, ecco. Adesso sto continuando con le decorazioni, quindi continuiamo. Adesso sto scegliendo... sto cercando di non scegliere contenuti personalizzati, però queste bandierine mi piacevano troppo e sì, le ho scaricate. Però come vi ho detto ci sono anche nel gioco, quindi in realtà non è necessario scaricare nulla. Io mi trovo benissimo con le cose di The Sims ormai. Ci sono così tante espansioni che... che veramente c'è di tutto. Comunque, non so se l'avete notato, ma io ho posizionato un acquario in casa. Questo perché volevo aspettare, prima di prendere anche un animale, volevo aspettare di sapere da parte vostra un po' come volevate la storia. Quindi, visto che comunque rappresentando me sono amante degli animali, per iniziare in appartamento ho pensato di mettere un acquario, così avremo dei pesci. Iniziamo con i pesci, poi vedremo se prendere gatti, se prendere cani, se trasferirci in una fattoria, non lo so, vedremo. Quindi ci sarà un acquario per iniziare. E intanto appunto sto cercando di organizzare questa parte dell'ingresso. La cosa di cui ero sicura è che volevo questo acquario e che volevo una zona ufficio, una zona studio per appunto far lavorare al computer il nostro sim, Cleo, vabbè, non so come chiamarla. E quindi adesso sto finendo di posizionare un pochino le cose in camera perché fino alla fine non ero sicura bene della posizione di tutto quanto. Però poi appunto, come vedrete, passo alla parte ufficio che mi piace tantissimo come è venuta alla fine. E qui all'ingresso invece ho messo quella panca che prima era in camera e adesso ho spostato di qui e che alla fine è abbastanza realistico perché è utile per sedersi e magari mettersi le scarpe prima di uscire. Come vedete c'è anche il portaombrelli perché appunto con le stagioni piove quindi prima di uscire si prende l'ombrello e poi si va. Ah, e qui sto posizionando questo quadro che viene con l'espansione Vampiri e però come vedete all'interno ho posizionato due specchi così da renderlo un enorme specchio con questa cornice antica e all'ingresso mi piaceva molto anche perché come vedete le pareti di questo appartamento sono altissime e quindi tutti i mobili risultano bassissimi solo perché ci sono queste pareti che in realtà sono super alte però non si può modificare perché si tratta di un appartamento. Eccoci qui finalmente alla parte ufficio quindi ho posizionato la scrivania ho posizionato la mia sedia preferita di Vimini ho posizionato anche il computer fondamentale e adesso lo sto un po' decorando ho messo quella cartella dei documenti metto qualche piantina ho anche messo quella lampada che è proprio basic ma mi piace molto come decorazione ho messo altre piantine, altri libri e metto anche questo mobile che mi piace tanto mi ricorda un po' i mobili dell'IKEA non so perché e questo arriva con l'espansione del bucato quindi come avrete capito l'espansione del bucato e delle stagioni sono le mie preferite non so se si era capito e appunto dopo aver posizionato quel mobile che se non sbaglio è l'ultimo mobile che ho posizionato finisco con il decorarlo mettendo appunto questo vassoietto che non utilizzo spesso perché si trova nella parte delle bajour perché in realtà emana luce con una candela però è molto bello anche come decorazione perché ci sono tutte delle cosine posizionate sul vassoio poi aggiungo dei libri che non fa mai male non fa mai male e questo angolino è finito e ah sì, manca anche il tappeto fondamentale il tappeto però sì, mi piace davvero tanto come è venuto questo angolino mi sembra molto carino con quella finestra che poi dà sugli altri palazzi e quindi niente questo un pochino è in generale l'appartamento con cui inizieremo il nostro gioco la nostra vita di Cleo io spero davvero che vi sia piaciuto e fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate nel prossimo episodio ovviamente inizieremo col vero e proprio gameplay quindi io non vedo l'ora e se avete idee sulla storia io leggo sempre i vostri commenti le vostre trame che proponete quindi non vedo l'ora di leggere anche le vostre idee sotto questo video e noi ci vediamo prestissimo con un altro video o con un altro vlog ciao ciao